Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata di Art and Science, tappa di Genova. Per me è un piacere oggi presentarvi l'oratore di oggi, che è Andrea Basso, professore all'Università di Genova e Departimento di Chimica. Andrea ci porterà attraverso un suo viaggio, un laboratorio virtuale, che ci porterà attraverso lo specchio e attraverso lo specchio ci porterà a illustrare il concetto di chiralità. Lascio la parola ad Andrea, ma prima di farlo vi ricordo che potete lasciare eventuali commenti, eventuali domande sulla chat apposita che trovate in questa diretta streaming su YouTube, e sarà poi mia premura riassumere eventuali domande e porle ad Andrea alla fine del seminario. Vi auguro un buon ascolto, in questo caso anche una buona visione, e lascio la parola ad Andrea. Grazie Andrea, grazie. Buongiorno a tutti, ben arrivati a questo nuovo evento di Art and Science, dove l'arte e la scienza vengono messi a stretto contatto. In questa particolare tappa genovese noi parleremo di una particolare forma d'arte, che è la letteratura. In particolare vedremo come la scienza in qualche modo si è legata ad uno scrittore, che si chiama Lewis Carroll. Probabilmente molti di voi hanno già sentito parlare di questo scrittore, ma se qualcuno di voi questo nome non dicesse nulla, sicuramente vi direbbe qualcosa di più Alice nel Paese delle Veraviglie, cioè Alice in Wonderland. Infatti Lewis Carroll è lo scrittore che ha scritto questo capolavoro. In realtà però noi non ci interesseremo oggi di Alice in Wonderland, un po' come succede anche al giorno d'oggi quando ci sono le serie televisive, piuttosto che i film, che riscuotono un grande successo, e per i quali quindi poi si fa un secondo episodio, così anche nel caso del libro Alice in Wonderland c'è stato anche un episodio 2. Questo episodio 2 però non si è chiamato Alice in Wonderland 2, ma si è chiamato Through the Looking Glass, cioè attraverso lo specchio. Ed effettivamente è questo il motivo per cui siamo qui di fronte a questo specchio. Che cosa succede in questo libro? In questo libro succede che Alice ha a disposizione uno specchio magico, e quando lei passa attraverso questo specchio, si ritrova in un mondo completamente diverso da quello da cui proveniva. Ci interessa di questo libro in realtà un episodio particolare, un episodio in cui Alice sgrida al suo gatto e dice al gatto, per cercare di farlo stare buono, guarda che se non fai il bravo io ti spedisco dall'altra parte dello specchio, e chissà se dall'altra parte dello specchio il latte sarà altrettanto buono. Ecco, questa frase sembra abbastanza astrosa, perché il latte dovrebbe essere diverso passando da una parte all'altra dello specchio. Ebbene, per capirlo noi abbiamo bisogno di introdurre un concetto, un concetto che è il concetto di chiralità. Chiralità è una parola che deriva dal greco, e in pratica deriva dalla parola ma. Infatti, per spiegare questo concetto, noi partiamo proprio dalle mani, o meglio dire, partiamo dai guanti. Io sono, come vi è stato detto, sono un chimico e quindi molto spesso i chimici fanno la loro attività utilizzando dei guanti, dei guanti da laboratorio, per evitare che magari sostanze pericolose, sostanze corrosive, ci vengano a contatto con le nostre mani. Quindi io ho questi due guanti di laboratorio e me li infilo. Niente di strano, apparentemente. In realtà io nel fare questo non mi sono posto la domanda se infilarmi il guanto sulla mano destra o sulla mano sinistra. Ho preso due guanti qualsiasi e me li sono infilati e non ho avuto nessun tipo di problema. In realtà se io prendessi il guanto che ho infilato sulla mano destra potrei tranquillamente utilizzare lo stesso guanto per infilarlo sulla mano sinistra. E quindi esattamente come calzava l'altro guanto anche questo calza perfettamente sulla mia mano. Bene, però stamattina io vengo al lavoro con uno scooter e siccome fa ancora abbastanza freddo ho utilizzato i guanti. Quindi ho preso i miei guanti da moto e in questo caso io ho preso questo guanto e me lo sono infilato alla mano sinistra e questo guanto e me lo sono infilato alla mano destra. Non avrei potuto fare il contrario perché se io prendo questo guanto e provo infilarlo sulla mano sbagliata vedete che c'è qualcosa che non funziona. Quindi perché i due guanti, i guanti da laboratorio e i miei guanti da moto sono diversi? Beh, per capirlo dobbiamo provare a fare un esperimento. Quindi io mi infilo il guanto sulla mano sinistra e vi faccio vedere che cosa succede quando faccio vedere il guanto allo specchio. Vedete l'immagine del guanto riflessa sullo specchio? Adesso guardate cosa succede qua. Vedete? L'immagine allo specchio di questo guanto è uguale a questo guanto. Questi due oggetti, quindi questi due guanti sono definiti chirali nel senso che sono due oggetti che non sono uguali ma sono uno l'immagine allo specchio dell'altro quello che viene chiamato l'immagine speculare. E quindi è una proprietà che è interessante perché questi due guanti in realtà non sono uguali ma sono abbastanza uguali. Ma è una caratteristica che possiamo vedere solamente nei guanti ad esempio o ci sono anche altri oggetti che fanno parte della vita comune del comune quotidiano che hanno queste caratteristiche. No, ce ne sono altri. Ad esempio vi pongo questo problema. Quando noi ci troviamo di fronte ad un bullone o a qualcosa che vogliamo avvitare noi istintivamente se vogliamo avvitarlo lo giriamo in senso orario e quindi il bullone si è avvitato se vogliamo svitarlo lo giriamo in senso anti-orario e questo noi lo facciamo con i bulloni lo facciamo con gli rubinetti dei lavandini e con molte altre cose. Ma in realtà non è scontato che il bullone ruoti in questo modo quando si avvita o nel senso opposto quando invece viene svitato. Questo bullone qua ad esempio funziona esattamente all'opposto cioè io per avvitarlo devo girarlo in senso anti-orario. Quindi gira esattamente in maniera opposta rispetto all'altro. Perché questo? Perché questi due bulloni hanno due filettature che sono chirali e sono una l'immagine allo specchio dell'altra. Per cui in un caso io avvito uno girandolo verso destra cioè in senso orario avvito l'altro girandolo verso sinistra cioè in senso anti-orario. Perché complicarsi la vita? Perché avere bulloni che si avvitano in un senso e bulloni che si avvitano nell'altro? In realtà se voi andate normalmente in un negozio che vende diciamo materiali tipo bulloni, viti e cose del genere e chiedete dei bulloni sicuramente vi daranno dei bulloni che si avvitano secondo il normale senso. Ma in realtà c'è qualcosa in cui è fondamentale avere una filettatura che in un caso giri in un senso e nell'altro giri nel senso opposto ed è il caso dei pedali della bicicletta. Quando voi avvitate i pedali della bicicletta sulle pedivelle voi avvitate uno dei due pedali in senso orario e l'altro pedale in senso anti-orario. Perché questo? E perché questo è così importante? Perché nel momento in cui voi immaginate il movimento dei pedali quando voi pedalate se i pedali fossero avvitate sulle pedivelle tutti e due nello stesso modo mentre pedalate un pedale girerebbe nel senso dell'avvitamento ma l'altro pedale girerebbe nel senso dello svitamento e quindi dopo un po' rischiereste di perdere. E quindi i pedali della bicicletta sono fatti in modo che una delle due pedali abbia una filettatura cosiddetta destra-orsa quindi che è vuota in senso orario quando si avvita e l'altro pedale abbia una filettatura sinistra-orsa cioè vuoti in senso anti-orario quando si avvita. Abbiamo visto quindi che ci sono diversi oggetti che fanno parte del nostro quotidiano che hanno questa caratteristica cioè sembrano uguali ma in realtà non lo sono. Sono un'immagine allo specchio l'uno dell'altro. Cerchiamo quindi di capire un pochino più a fondo quale deve essere la proprietà di un oggetto per poter essere chirale perché ovviamente per poter essere chirale abbiamo detto l'oggetto deve essere uguale deve avere un'immagine all'un specchio ma questi due oggetti quindi un oggetto e la sua immagine speculare non devono essere coincidenti per cui ad esempio se ritorniamo ai guanti da laboratorio i guanti da laboratorio non sono chirali perché sono coincidenti. Quindi cerchiamo di capire questo discorso un pochino meglio per farlo prendiamo una normale tazza anzi ne prendiamo due. La domanda è ma queste due tazze sono chirali oppure no? Per farlo facciamo lo solito esperimento quindi prendiamo la prima tazza la mettiamo davanti allo specchio guardiamo che cosa c'è dietro quindi guardiamo l'immagine riflessa nello specchio e guardiamo che cosa succede quando prendiamo la seconda tazza vedete la tazza che tengo qua dietro è l'immagine allo specchio di questa tazza quindi apparentemente sono chirali? Non so perché in realtà se prendo questa tazza e la metto accanto a questa vedete che le due tazze sono perfettamente identiche quindi se io ho due oggetti perfettamente identici è evidente che saranno anche l'uno l'immagine allo specchio dell'altro però questi due oggetti non sono chirali però adesso faccio un esperimento e cioè io prendo questa tazza e scrivo la mia iniziale in modo tale da riconoscerla quindi scrivo la lettera di Andrea in modo tale che nessuno me la prenda quando poi voglio bere un tè o un caffè e scrivo la stessa cosa sull'altra tazza quindi adesso io prendo la mia tazza la vedete allo specchio vedete che c'è la lettera A che si vede nello specchio voi qua non la vedete perché dall'altro lato ma vedete la lettera A nello specchio eccola qua vedete i due oggetti adesso l'oggetto che vedete nello specchio e l'oggetto che vengo con la mano sono uguali ma le due tazze sono uguali adesso scusate le due tazze adesso sono uguali no non sono più uguali perché in una la A è da questo lato e nell'altra la A è da questo lato quindi questi due oggetti che inizialmente erano uguali adesso sono diventati chirali che cosa ho fatto per farli diventare chirali per farli diventare chirali ho praticamente tolto un elemento di simmetria inizialmente in questa tazza se la dividevo in due parti perfettamente uguali le due parti erano identiche se lo faccio adesso non più perché da un lato c'è la lettera A e dall'altro lato la lettera A non c'è più quindi due oggetti sono chirali quando praticamente manca qualche elemento di simmetria benissimo ma perché parliamo di questo perché parliamo di tazze parliamo di guanti quando dovremmo parlare di scienza beh perché in realtà questa proprietà la chiralità che abbiamo visto negli oggetti macroscopici in realtà però la osserviamo la possiamo vedere anche negli oggetti submicroscopici quindi anche a livello delle molecole e a livello molecolare la chiralità è una proprietà come vedremo molto molto importante cerchiamo quindi di passare da quello che è il mondo macroscopico al mondo submicroscopico però con un limite che noi in realtà gli oggetti submicroscopici non li possiamo mica vedere non è che io vi posso far vedere una vera e propria molecola attraverso la telecamera del mio computer quindi dobbiamo utilizzare dei modelli dobbiamo rappresentare delle cose che in qualche modo rappresentino il mondo submicroscopico ma siano facilmente comprensibili e quindi per fare questo io vi presento l'atomo di carbonio questo è un atomo di carbonio l'atomo di carbonio è fondamentale è alla base di quella chimica che si chiama chimico organica che è la chimica tipica degli esseri viventi è la chimica che riguarda noi le nostre cellule che riguarda i vegetali gli animali e così via quindi l'atomo di carbonio è alla base di una parte della chimica molto molto importante e l'atomo di carbonio ha una caratteristica quello che quando forma delle molecole quindi quando si lega ad altri atomi e ad altre specie chimiche lo fa utilizzando quattro diversi legami quindi un atomo di carbonio si può legare a quattro altri diversi chiamiamoli gruppi sostituenti atomi pezzi possiamo usare il termine che vogliamo comunque l'importante è capire che questi sono quattro e quindi prendiamoli questi quattro pezzi diversi quindi leghiamo il nostro atomo di carbonio al primo pezzo leghiamolo al secondo pezzo leghiamolo ad un terzo pezzo ed infine leghiamolo anche ad un quarto pezzo quindi questa potrebbe essere la mia molecola una molecola che contiene atomi di carbonio quindi una molecola che potrebbe anche far parte delle molecole della vita quindi potrebbe essere un amminoacido potrebbe essere uno zucchero potrebbe essere qualcosa ovviamente dipende da che cosa sono questi vari pezzi che io ho collegato all'atomo di carbonio però al momento non ci interessa sapere che cose effettivamente siano questi pezzi ci interessa vedere che sono dei pezzi con colori diversi e ci interessa anche cercare di vedere questa stessa molecola come riflessa nello specchio la vedete? vedete la molecola nello specchio? bene continuate a osservare la molecola che c'è nello specchio e guardate un po' la molecola che c'è nello specchio è pari è uguale alla molecola che vedete qua rappresentata che tengo in mano a questo punto la domanda è ma questa molecola e questa sono uguali? beh possiamo fare una cosa molto semplice non lo potremmo fare con delle molecole vere ma con i nostri modellini lo possiamo fare prendiamo le due molecole le portiamo tutte e due davanti allo specchio e proviamo a vedere se le due molecole coincidono il blu e il blu coincide il verde e il verde coincidono ma da una parte io ho il giallo e dall'altra il rosso da questa parte io ho il giallo e da questo il giallo e da questa parte il rosso quindi vedete che queste due molecole non coincidono non sono uguali però hanno una caratteristica non possiamo dire semplicemente non sono uguali hanno una caratteristica in più rispetto al semplicemente non essere uguali sono una l'immagine allo specchio dell'altra due molecole che hanno questa caratteristica quindi di essere una l'immagine allo specchio dell'altra ma non essere la stessa molecola si chiamano chimici le chiamano enantiomeri quindi vuol dire che qualsiasi molecola che contiene un atomo di carbonio è una molecola chirale e quindi possono esistere due diversi enantiomeri che non sono la stessa cosa in realtà no non è detto che una molecola sia chirale lo può essere ma non è detto che lo sia cerchiamo di capirlo adesso facendo questo esperimento quindi facciamo una reazione chimica in modo tale da sostituire ad esempio questo atomo o questo gruppo con questo gruppo e la stessa cosa la facciamo sull'altra molecola a questo punto rifacciamo l'esperimento di prima quindi mettiamo una molecola davanti allo specchio guardiamo quello che c'è a riflesso nello specchio guardiamo che cosa c'è lassù e vediamo che quello che c'è lassù vedete è esattamente quello che vediamo riflesso dello specchio quindi ancora una volta le due molecole sono una l'immagine allo specchio dell'altra ma se noi prendiamo le due molecole adesso e le mettiamo vicine e proviamo a farle combaciare il giallo combacia col giallo il verde combacia col verde ma adesso abbiamo rosso e rosso che combaciano e rosso e rosso che combaciano quindi a questo punto le due molecole non sono più due enantiomeri ma sono la stessa molecola in questo caso sono diventate la stessa molecola quindi che cosa è che le ha rese uguali perché prima erano diverse e adesso sono uguali beh il fatto che adesso due dei gruppi legati all'atomo di carbonio sono uguali quindi possiamo a questo punto dedurre che una molecola è chirale e quindi esistono due enantiomeri di quella molecola solamente quando c'è un atomo di carbonio ovviamente non è detto che sia l'unico atomo di carbonio presente nella molecola ce ne potrebbe essere più di uno però ci deve essere un atomo di carbonio almeno uno che non sia che sia legato a quattro sostituenti diversi a quattro gruppi diversi in questo caso noi ci possiamo trovare di fronte a due enantiomeri quindi a due molecole che sono apparentemente uguali ma che in realtà uguali non sono bene perché ci interessa sapere che esistono delle molecole con questa caratteristica se noi adesso andassimo in laboratorio qua a fianco c'è il laboratorio dove facciamo le ricerche e volessimo studiare queste due molecole ad esempio studiarne alcune proprietà come ad esempio il fatto che possano passare dallo stato solido allo stato liquido ad una certa temperatura il fatto che possano passare dallo stato liquido allo stato gassoso ad un'altra temperatura il fatto di essere solubili in un determinato solvente come l'acqua o un altro tipo di solvente o altri tipi di proprietà che adesso non andiamo a elencare perché sarebbero troppo lunghe bene quello che scopriremo facendo queste analisi in laboratorio è che questa molecola e il suo enantiomero avrebbero esattamente le stesse caratteristiche e quindi tutte e due passerebbero dallo stato solido allo stato liquido alla stessa temperatura sapete che il passaggio di stato avviene ad una temperatura costante queste due molecole passerebbero dallo stato liquido allo stato gassoso di nuovo esattamente alla stessa temperatura avrebbero la stessa solubilità eccetera 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 quindi allora ci facciamo tanti problemi ma poi in realtà se queste due molecole si comportano allo stesso modo perché poi c'è il problema di distinguere di dire che esistono due molecole diverse beh perché in realtà se noi facciamo questi esperimenti di laboratorio effettivamente succede quello che abbiamo appena detto e cioè che noi osserviamo delle temperature diciamo delle caratteristiche fisiche uguali però potrebbe succedere qualcosa che magari noi di solito questa cosa non si fa in laboratorio però potrebbe succedere che magari dopo aver avuto la garanzia che queste due molecole non sono assolutamente tossiche potremmo essere curiosi di sentire che odore hanno quindi potremmo annusare l'odore di questa molecola e l'odore di questa molecola e ci accorgeremo che in realtà potrebbero avere degli odori diversi la stessa cosa succede con una molecola che probabilmente molti di voi hanno già sentito nominare che si chiama limonine perché questa molecola si chiama così beh ovviamente perché si troverà nei limoni è evidente effettivamente si trova nella buccia di molti agarumi ed è quella che dà la caratteristico odore agli agarumi in realtà la cosa un po' curiosa è che nonostante il limonene si chiami così si trova più abbondante nelle arance che non nei limoni però evidentemente lo hanno scoperto prima nei limoni gli hanno dato quel nome poi quando si sono accorti che c'era anche nelle arance e anzi che ce n'era di più ovviamente non potevano più cambiare il nome e dargli il nome di arancene quindi l'hanno chiamato l'hanno continuato a chiamare limonene ebbene questo limonene in realtà se noi andassimo veramente a studiare la sua struttura cioè come è fatto ci accorgeremmo che presenta un atomo di carbonio proprio come questo cioè un atomo di carbonio con quattro gruppi diversi ad esso legati quindi allora vuol dire che questo limonene esiste sotto forma di due enantiomeri ebbene sì e il primo enantiomero è quello che ha il classico odore di arancia ma in realtà esiste il suo enantiomero e se noi andassimo ad annusare il suo enantiomero bene il suo enantiomero avrebbe l'odore del pino quindi un odore completamente diverso quindi allora non è vero che i due enantiomeri hanno esattamente le stesse caratteristiche alcune caratteristiche sì ma altre come l'odore che noi siamo in grado di percepire è diverso vi faccio un altro esempio probabilmente molti di voi hanno riconoscono questa scatolina se qualcuno di voi ha avuto mal di testa magari ha preso una bustina di questo di questo farmaco che dopo poco il mal di testa gli è passato perché gli è passato perché questo è un farmaco quindi al suo interno è contenuto un principio attivo che nel caso specifico si chiama chetoprofene e quindi questo principio attivo una volta che noi lo assumiamo ci fa passare in breve in breve tempo il mal di testa bene questa molecola il chetoprofene un po' come il limonene anche essa ha un atomo di carbonio con quattro sostituenti con quattro gruppi diversi quindi esiste sotto forma di due enantiomeri ebbene sì ma tutti e due ci fanno passare il mal di testa no solamente uno dei due uno dei due enantiomeri ci fa passare il mal di testa l'altro in realtà non fa niente potrebbe avere degli altri effetti volendo ma in realtà in questo caso non fa niente quindi in questo farmaco in realtà gli enantiomeri sono presenti entrambi sono presenti sia l'enantiomero che potremmo chiamare A del del chetoprofene sia l'enantiomero B del chetoprofene uno ci fa passare il mal di testa l'altro non fa niente forse avete sentito parlare anche di questo farmaco anche questo ci fa passare il mal di testa e guarda caso anche questo presenta come principio attivo il chetoprofene ma secondo voi perché gli hanno dato questo nome particolare enantium beh gli hanno dato questo nome perché in realtà qui in questo farmaco c'è solamente l'enantiomero che ci fa passare il mal di testa non c'è l'altro quello che non fa niente c'è solo l'enantiomero che ci fa passare il mal di testa perché allora avere due farmaci diversi perché qua metterli tutti e due mentre qua invece mettere ne uno solo beh fondamentalmente perché riuscire a separare i due enantiomeri di una molecola non è semplice perché come abbiamo visto hanno molte proprietà simili per cui è più facile fare l'occhi è un po' più difficile fare l'enantium e infatti l'enantium se voi andate in farmacia costerà di più rispetto all'occhi alla fine poi l'effetto è lo stesso perché come vi dicevo l'enantiomero che non ha nessun effetto non provoca nulla quindi comunque il mal di testa ci passa comunque però una volta che comprate l'enantium vi dovrebbe a questo punto dopo aver visto la lezione di oggi suonare questo nome enantium è ricordare quello che abbiamo visto oggi quindi nel caso dell'enantium e nel caso del ketoprofene in generale abbiamo il caso particolare in cui noi abbiamo che i due enantiomeri uno ha l'effetto benefico l'altro non ha nessun effetto però in qualche modo non è detto che sia sempre così ci potrebbe essere anche il caso in cui uno dei due enantiomeri ha l'effetto benefico ma l'altro invece ha l'effetto opposto o comunque un effetto in qualche modo sgradevole ebbene in passato è proprio successa una cosa molto grave che ha a che fare con gli enantiomeri stiamo parlando di molti molti anni fa quando voi non eravate nati e era stata messa in commercio un farmaco che si chiamava talidomide talidomide era un farmaco che veniva assunto dalle donne in gravidanza per ridurre il senso di nausea come probabilmente sapete nei primi mesi di una gravidanza una donna può spesso avere delle nausee anche forti e molto fastidiose bene questa talidomide era messa in commercio proprio per eliminare queste nausee ma a quel tempo non si sapeva ancora non si conosceva bene il fatto che esistevano enantiomeri con proprietà diverse per cui la molecola è stata messa in commercio un po' come l'occhi come la miscela dei due diversi enantiomeri purtroppo però in quel caso tragico uno dei due enantiomeri era quello che faceva passare le nausee ma l'altro enantiomero invece aveva degli effetti terribili sui feti per cui in seguito all'assunzione della talidomide in quegli anni si sono avuti molte aborti spontanei e molti feti malformati che sono nati quindi da quella lezione ovviamente poi si è imparato molto relativamente agli enantiomeri e al fatto di doverli in qualche modo studiare entrambi nelle loro proprietà per essere sicuri che uno non abbia un effetto dannoso e però purtroppo questo lo abbiamo imparato a spese di molti bambini che molti molti feti che non hanno visto la luce e altri che hanno visto la luce ma sono nati malformati ma cerchiamo di capire un po' il perché ci sono delle proprietà apparentemente così diverse cioè da un lato abbiamo detto che sono praticamente uguali dall'altro potrebbero avere degli effetti completamente diversi com'è che noi ci accorgiamo che queste due molecole hanno delle proprietà e degli effetti diversi ce ne accorgiamo nel momento in cui le mettiamo in contatto con altre molecole in un caso specifico che sono a loro volta chirali ma se ci pensate la stessa cosa valeva anche per gli oggetti macroscopici e cioè per i guanti quando è che questi due guanti che erano apparentemente uguali mi sono accorto che erano diversi quando li ho messi nelle mani quindi quando ho messo il guanto a contatto con la mano che a sua volta è un oggetto chirale per cui il guanto destra con la mano destra e il guanto sinistra con la mano sinistra la stessa cosa succede anche con le molecole ci accorgiamo che due enantiomeni hanno proprietà diverse quando li mettiamo a contatto con altre molecole che hanno caratteristiche simili ad esempio ritorniamo al discorso dell'olfatto e del fatto che noi sentiamo gli odori ad esempio del limonene come odore di arancia piuttosto che odore di pino bene perché all'interno del nostro corpo all'interno del nostro naso sono presenti dei recettori olfattivi cioè delle molecole che a loro volta sono delle molecole chirali che interagiscono con la molecola del limonene e in un caso danno una risposta e nell'altro invece non la danno immaginiamo quindi di farvi questo esempio questo è il nostro recettore presente all'interno del naso e un po' come quei giochi a cui forse avete giocato da bambini quindi ricordate c'era un cubo con dei buchi e poi dovevate inserire all'interno di questo cubo degli oggetti della forma opportuna bene se noi immaginiamo un discorso simile quindi che la molecola del limonene per poter essere percepita dal nostro naso e quindi poi dal cervello deve andarsi incastrare nel recettore bene guardiamo che cosa succede a questo enantiomero questo enantiomero vedete non combacia perché se io faccio combaciare il giallo col giallo non riesco a far combaciare il blu e la rosso quindi questa molecola e questo recettore non vanno d'accordo ma se io invece prendo questa molecola ecco che in questo caso io ho perfettamente l'incastro quindi questa molecola è in grado di interagire perfettamente con questo recettore l'altra molecola è in grado di interagire con un altro recettore che vedete è diverso quindi a seconda del recettore con cui la molecola che noi abbiamo preso in considerazione interagisce noi abbiamo una risposta diversa e quindi percepiremo in un caso l'odore di agrumi oppure l'odore di pino oppure vedremo che ci passa il mal di testa oppure vedremo anche altri effetti meno piacevoli ma se è così importante quindi riuscire a distinguere tra due enantiomeri perché possono avere proprietà diverse soprattutto quando vengono a interagire con noi stessi perché noi siamo fatti da amminoacidi da zuccheri e da proteine che sono tutte molecole chirali sono tutte molecole che hanno atomi di carbonio legati a quattro gruppi diversi quindi qualsiasi molecola che noi prendiamo dal laboratorio e che ha questa caratteristica potrà interagire con il nostro corpo in maniera diversa secondo che sia un enantiomero oppure l'altro quindi è importante riuscire a distinguere fra un enantiomero e l'altro ma come facciamo se abbiamo detto che hanno lo stesso temperatura di fusione temperatura di ebollizione polarità solubilità e così via come facciamo a distinguere non possiamo mica tutte le volte mangiarli annusarli per vedere che effetto fanno no però in laboratorio noi abbiamo uno strumento che consente di distinguere fra i due enantiomeri e questo strumento si chiama polarimetro possiamo schematizzarlo con questo tubo questo tubo è un po' come se fosse il nostro diciamo un recipiente al cui interno noi mettiamo le nostre molecole magari disciolte all'interno di un solvente come l'acqua o un altro solvente all'interno all'interno di questo tubo facciamo passare un raggio di luce che è questa banda rossa che vedete però non la facciamo passare in qualsiasi direzione ma facciamo in modo che questo fascio di luce sia polarizzato cioè si propaghi lungo un piano ok vedete che il fascio di luce si propaga lungo un piano ebbene se all'interno di questa molecola è presente uno dei due enantiomeri il fascio di luce nell'attraversare questo tubo viene ruotato e viene ruotato ad esempio di un certo angolo in senso orario se però all'interno del mio tubo porta campioni metto l'altro enantiomero di quella molecola il fascio di luce viene sempre ruotato ma in senso opposto quindi è un po' come il discorso dei bulloni con la filettatura destrossa o filettatura sinistrossa anche qui abbiamo uno dei due enantiomeri che ruota il piano della luce a destra e uno dei due enantiomeri che ruota il piano della luce a sinistra questi due enantiomeri quindi li posso distinguere con questo strumento e li posso chiamare rispettivamente enantiomero di che sta per destra o giro perché fa girare il piano della luce a destra oppure lo posso indicare anche con il segno più e l'altro enantiomero lo chiamo levo giro oppure lo posso indicare col segno meno bene quindi a questo punto siamo in grado di distinguere tra i due tra due enantiomeri ma a questo punto è tempo di tornare all'inizio quindi tornare a quello che era il principio del nostro discorso e cioè perché il latte da una parte dall'altra parte dello specchio può avere sapore diverso beh lo facciamo prendendo una molecola a cui siamo tutti abituati che è la molecola del glucosio il glucosio che è presentato con questo modellino è una molecola che presenta non uno ne presenta di più però l'importante è che ce ne sia almeno uno che presenta un atomo di carbonio con quattro gruppi diversi e quindi è presente sotto la forma di due enantiomeri quindi questo è l'enantiomero che abbiamo imparato a chiamare D e guardate un po' l'immagine nello specchio anche se forse un pochino più complicata su molecole così grosse però l'immagine allo specchio è questo che non è la stessa molecola perché non coincidono ma è il suo enantiomero cioè l'enantiomero L quindi abbiamo un D-glucosio e un L-glucosio il D-glucosio è quello che normalmente troviamo il glucosio sapete è lo zucchero più semplice cioè non più semplice ma il zucchero più comune quello che è presente nel nostro organismo quello che costituisce l'amido la cellulosa quello che viene utilizzato per produrre energia all'interno del nostro corpo però quel glucosio che è presente nel nostro corpo è solamente questo è il glucosio D mentre invece questo glucosio non è un glucosio naturale quindi non lo troviamo in naturale lo possiamo fare in laboratorio ma non lo troviamo in naturale e la cosa curiosa è che se noi assaggiamo il glucosio D ovviamente non è lo zucchero comune che utilizziamo in cucina lo zucchero che usiamo in cucina è il saccarosio che però è formato è costituito da glucosio però comunque anche il glucosio se noi prendiamo il glucosio quello naturale e lo assaggiamo è dolce e se noi facciamo questo in laboratorio e lo assaggiamo ebbè quello invece è amaro e la stessa cosa succede per il lattoso che è lo zucchero che costituisce il latte e che appunto può essere un D lattosio quello che troviamo comunemente e che dà quel leggero sapore dolce al latte ma se noi avessimo l'antiomero del lattosio l'L lattosio e quello sarebbe amaro quindi forse il latte avrebbe un gusto un po' diverso forse non altrettanto piaceva e forse Kitty a questo punto farebbe bene a comportarsi in maniera adeguata per evitare di andare dall'altra parte dello specchio io con questo vi ringrazio l'ascolto e se avete delle domande ovviamente sono disposto a rispondere subito grazie mille Andrea devo dire davvero interessante e coinvolgente invito i ragazzi anche i professori se vogliono di fare fare domande sulla sulla chat YouTube nel caso ce ne fossero poi io il primo neurone di Portele nel frattempo vorrei vorrei farla io una domanda appena finito di parlare del glucosio D del glucosio L e anche dell'analogo lattosio hai sottolineato come dei due possibili erantiomeri di una certa molecola in realtà spesso in natura se ne trova solo uno e volevo chiedere se c'è una ragione per questo perché la natura intanto preferisce un erantiometro piuttosto che l'altro questa è la domanda che se si riuscisse a rispondere probabilmente potrebbe il prossimo premio Nobel per la chimica perché è un qualcosa che ancora non si è capito si è riusciti ad avere diciamo delle informazioni ad esempio abbastanza dettagliate sul perché ad esempio si è originata la vita sulla terra ma sul perché i primi diciamo le prime molecole viventi abbiano deciso di selezionare uno dei due nantiometro rispetto all'altro per qualcosa che ancora non è stato spiegato si parla di possibili motivi legati alla rotazione della terra che ovviamente ruota solamente in un verso e non nel verso opposto si è parlato di meteoriti ma in realtà questo è un dubbio cioè un dubbio un quesito un dilemma a cui ancora non si è riusciti a rispondere le prime molecole che sono comparse le prime molecole della vita ad esempio gli amminoacidi che sono comparse sulla terra inizialmente erano una miscela 50 e 50 dei due nantiometro quindi c'erano tutti e due all'inizio però poi pian pianino uno dei due ha preso il sopravvento sull'altro prima in percentuali infinitesimi e poi via via in rapporti sempre maggiori però qual è stato il motivo che ha inizialmente creato questa leggera differenza fra uno dei due nantiometri e questo ancora non si è capito grazie mille molto interessante allora facciamo una seconda e probabilmente ultima domanda hai menzionato anche un esempio in cui un nantiometro di una molecola è stato scambiato nel suo corrispettivo nella sua corrispettiva immagine speculare e ve lo chiedete se nella storia ci sono altri casi nei quali due nantiometri e molecole sono stati scambiati e se sì se ci sono state delle conseguenze per colpa di questo scambio sì ci sono diverse storie alcune di queste sono anche abbastanza curiose forse non divertenti soprattutto per la persona che è stata coinvolta però sicuramente a raccontarla c'è anche un pochino nasce un pochino di sorriso nel 2002 a Salt Lake City c'erano le Olimpiadi Invernali e per la prima volta un atleta britannico ha vinto una medaglia di bronzo come sapete in Inghilterra non ci sono montagne altissime quindi non ci sono tanti possibilità di sciare quindi aver vinto una medaglia era comunque qualcosa di particolarmente prestigioso ebbene dopo poco però la medaglia a questo atleta britannico è stata tolta perché è stato accusato di doping dal momento che era stato trovato positiva una molecola che era la metanfetamina che è considerato un dopante ma in realtà lui non aveva preso nessun dopante lui aveva preso uno spruzzo nasale probabilmente voi non avete già sentito parlare il VIX che in Italia e comunque in Europa presenta al suo diciamo come principio attivo una sostanza che adesso non ci interessa sapere qual è il suo nome ma in America quello stesso farmaco veniva inserito come principio attivo la metanfetamina la stessa sostanza che viene usato come dopante con una differenza però che la metanfetamina usata come dopante è l'enantiomero più mentre la metanfetamina utilizzata in questi spruzzi nasali è l'enantiomero meno che non ha effetti dopanti e quindi in realtà questo atleta britannico non aveva fatto nulla di male però a livello di diciamo di conoscenze chimiche di quello che era il comitato olimpico non ce n'erano molte e quindi non hanno accettato questa spiegazione che i due enantiomeri avevano proprietà diverse e quindi la medaglia non gli è mai stata rirestituta un'altra storia curiosa è quella di due farmaci che hanno delle proprietà diverse uno serve per la tosse uno serve per dell'altro sono uno l'enantiomero dell'altro e visto che ogni tanto i chimici non sono così seri ma sono anche dotati di spirito umoristico uno lo hanno chiamato Darwin e l'altro l'hanno chiamato Novrad cioè lo stesso nome ma letto dall'altra parte quindi anche questo può essere una storia carina da raccontare grazie mille insomma speriamo che un giorno il comitato olimpico si metta a usare il fotometro per andare a analizzare esatto va bene allora ringraziamo ancora Andrabasso per questa interessante chiacchierata e salutiamo i studenti e i professori che erano con noi e ci vediamo per un'eventuale prossima puntata di Art and Science grazie a tutti buona giornata